Sto passando un momento, credo, non buono, non sto dando in campo lo che posso dare, ma ci sto lavorando per recuperare, di fare bene come l'ho fatto l'anno scorso e niente, continuare a lavorare e non molare mai. Per questo ti dico che non sta andando bene, non è che sempre vanno le cose come uno pensa, che sia bene. Devo lavorarci su questo, lavorare tanto, dare un po' di più in campo perché il mister me lo chiede e se lo merita. No, bene, rispetto a Breda sono due allenatori diversi, però no, lui mi chiede sempre lo stesso, di giocare libero con la testa, di fare bene, però devo lavorare di più, devo stare più concentrato su quello che faccio in campo, di non molare, perché tante volte abbasso la testa perché non riesco a fare bene, devo lavorare su questo e fare bene perché il mister è tanto grave. Certo bene, credo che stiamo crescendo e dobbiamo continuare a lavorare. Io sto lavorando per crescere, di fare bene, di fare meglio e che la squadra se lo merita. Sul campo devo dimostrare tutto quello che lui mi dà, sulla fiducia, su tutto, perché l'allenamento sta sempre a caricare, sta sempre su di me, credo che devo tanto a lui e devo dimostrare che lui merita di un faletti diverso e di fare meglio perché la squadra ha bisogno di me. Quando sei arrivato a Terni, quando sei arrivato a Terni, quando sei arrivato a Terni per giocare sempre, però ho giocato poco, credo che quando è arrivato a Tessere, va bene, dai, era una mentalità diversa, io ho sempre lavorato per giocare e adesso sono contento per tutto questo, però sono dispiaciuto per quello che posso dare in campo, che non sto facendo bene e posso dare di più. No, dobbiamo stare attenti a Gerabolo, perché lo conosciamo e lui attacca bene la profondità, credo che dobbiamo stare attenti su questo, però loro hanno tanti giocatori bravi, debbiamo fare, non pensare a loro, credo che dobbiamo pensare solo a noi, di lavorare noi, di come giocare noi, è solo questo, dai, giochiamo in casa, dobbiamo vincere per salire da questa situazione. No, no, lo stesso, non abbiamo parlato con nessuno, nessuno non ha detto niente, tocca aspettare, tocca aspettare solo che dicano qualcosa e trovare una situazione, una soluzione per tutto questo. Deve interesse? No, questo tutto, io non so niente, ho letto solo questo su Facebook, però non so niente, penso solo a stare qua a fare bene, che mi manca un po' tutto questo, e va bene, penso solo a fare bene con la tua madre. Grazie.